Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Dopo la sua recente dimissione dall'ospedale, Fedez si trova nuovamente nei guai a causa di una nuova tappa nella sua disputa legale con il Kodakons. Questa controversia tra il famoso rapper e l'Associazione dei consumatori ha appena registrato un nuovo sviluppo a favore di quest'ultima. Fedez è stato formalmente imputato di calunnia poco dopo essere stato rilasciato dall'ospedale Fatebene Fratelli di Milano. La notizia dell'imputazione è stata resa pubblica dalla DN Kronos tramite un comunicato emesso dallo stesso Kodakons. È emerso che il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma ha accolto le richieste avanzate dall'Associazione e ha ordinato che Fedez sia imputato per il reato di calunnia nei confronti del Kodakons. Questa controversia legale ha origine dalle dichiarazioni fatte da Fedez sui social media nel 2020, durante l'apice della pandemia. In quel periodo era scoppiata una disputa tra il rapper e il Kodakons riguardo alla raccolta di fondi per la lotta al Covid-19. Il Kodakons aveva denunciato pratiche commerciali scorrette legate alla campagna promossa dai Ferragnez. Fedez aveva accusato il Kodakons di aver pubblicato un banner ingannevole sul proprio sito web in merito alla raccolta fondi per il coronavirus. In sintesi, Fedez si trova ora coinvolto in una nuova controversia legale con il Kodakons, questa volta con l'accusa di calunnia nei confronti dell'Associazione dei consumatori. Voi da che parte state? A voi i commenti.